Oltre le più rosse aspettative sia per numero di imbarcazioni presenti che per la qualità garantita dal cast dei partecipanti, senza dimenticare inoltre l'eccellente profilo organizzativo assicurato dal Circolo della Vela di Biceglie, grande successo dunque per il trofeo Biscio Colella 2018, l'evento velico valido come seconda tappa del Trofeo degli squadroni che si è svolto di recente nelle acque antistanti il porto di Biceglie, ben 33 le imbarcazioni provenienti da sei circoli del Norbarese che hanno aderito all'iniziativa promossa dalla realtà presieduta da Antonio De Angelis, affascinante e soprattutto estremamente apprezzato dai protagonisti, il campo di regata visibile anche dalla spiaggia, due i giri percorsi dalle barche per complessivi 6,8 miglia. Il trofeo Biscio Colella 2018 intanto è stato vinto dalla VE della Lega Navale Italiana a sezione di Trani con Nicky Vescia al timone Momas II del Circolo della Vela di Biceglie e di Nicola Summo e salito invece sul gradino più alto del podio nel trofeo Alfredo Di Clemente, assegnati inoltre i titoli nelle diverse categorie, in una competizione caratterizzata da condizioni meteo impeccabili. Il Circolo della Vela di Biceglie infine è al momento in testa nella graduatoria provvisoria per società del trofeo degli squadroni, la cui prossima tappa è in programma a fine luglio a Molfetta.